Salve e bentrovati. La settimana borsistica è contrassegnata dai risultati trimestrali e dati macro importanti, tra cui il PIL nell'Eurozona e negli Stati Uniti, insieme all'inflazione in entrambe le aree. Inoltre, è prevista la riunione della Banca Centrale del Giappone e l'analisi del mercato del lavoro americano. Gli avvenimenti politici, come le elezioni americane, non vanno dimenticati. Il Futsimib aggancia per ben due volte la soglia dei 35.000, la seconda volta dopo un recupero in velocità iniziato dal primo pomeriggio. Archivia poco sopra, aggiudicandosi un buon 0,70% circa. Più contenuto il rialzo del DAX, più 0,38%, in area 19.550. A Wall Street, gli indici di New York hanno intrapreso la via dei rialzi, così Dow Jones e Nasdaq si stanno avvantaggiando sopra il mezzo punto percentuale. Il miglior titolo del Futsimib oggi è di Asorin. Cinque delle ultime sei sedute erano state negative, ma oggi si è registrato un progresso di due punti e mezzo percentuali che ha colmato parte di quei ribassi. In buon spolvero alcuni bancari. La Banca Popolare di Sondrio supera il 2% di guadagno, mentre Banco BPM occupa la terza piazza con una risalita dell'1,71%. Nello stesso settore si mette in luce anche Fineco, con una percentuale simile, così come ha fatto anche un altro titolo finanziario, quale Unipol, che ha avuto un'ascesa dell'1,65%. Tra i titoli a minore capitalizzazione segnaliamo l'exploit di BasicNet, del più 40%, dopo l'accordo con Permira, un fondo globale di private equity. L'operazione prevede che BasicNet mantenga una partecipazione di circa 60% in Keyway e Permira ne acquisisca il 40%. Il risultato negativo più rilevante è quello di Iveco, che in apertura si era trovato sopra i 10 euro per azione, salvo poi scendere sotto questa soglia nelle ore successive, anche si ipotizza per via dell'eco della crisi di Volkswagen. Il calo del petrolio provoca una flessione su Eni, che lascia sul parterre quasi un punto e mezzo. Meno rilevanti i cali di altri titoli quali Telecom, Pirelli e Moncler. Da una breve panoramica sul comparto valutario, l'euro-dollaro, che con buona intonazione è rimasto sempre in area favorevole, tocca quota 1,08 e 20, pressoché neutra l'ivariazione euro-sterlina, mentre euro-iene riconquista i 165 punti con un rialzo del più 0,80%. Per ciò che riguarda le materie prime, balza all'occhio il meno 5,59% del petrolio, dopo gli attacchi del weekend a Israele e Iran, che ora sta viaggiando a quota 67,61. Pesanti vendite anche sul natural gas, che ha superato il meno 7%, mentre l'oro si mantiene stabile poco sotto ai 2.750 dollari. Ed ora la panoramica su indici internazionali di Salvatore Scarano. Ospite delle interviste di Traderlink di oggi, Salvatore Scarano, trader e fondatore di Wallcharts, per dare uno sguardo insieme ai mercati. A te la parola. Buongiorno a tutti. Come ogni volta ci riuniamo qui per dare non dei segnali operativi, ma una view su quelli che sono i mercati. Parto dallo Standard & Poor's 500, che è uno strumento che io sto osservando negli ultimi giorni e noto effettivamente che sta sviluppando dei supporti importantissimi, come ad esempio il 5.850, 5.830, livelli sotto il quale diventerà forse, lo vedremo, un filo pericoloso andare lunghi, ma all'interno di una struttura come questa io vedo appunto la resistenza del 5.907. Noi più volte abbiamo parlato appunto dei mercati partendo dagli americani e segnalando il 5.907 come ultimo livello, ultimo baluardo difensivo di questo trend. Se verrà sicuramente superato ci saranno delle buonissime opportunità di un long e che l'approdo, l'arrivo di questo movimento di fondo porterebbe a pensare quel famoso 6.000 che tanto lo stiamo ormai decantando. Attenzione però a tutto quello che verrà da qui ai prossimi giorni. Ricordiamoci ci sono le elezioni americane e quindi questo sarà il vulnus sul quale i mercati e gli operatori si concentreranno. Quindi noi riepilogando i livelli siamo intorno diciamo al 5.830-840 come primo supporto, i successivi sono ben sotto a 750, mentre invece come resistenza abbiamo il livello 5.907. Quindi superamento e tenuta faranno effettivamente la differenza come la sta facendo il Nasdaq in questo momento, che sta andando ad attaccare quella che è la resistenza vera, quella più importante, quella dei venditori, quella che i venditori hanno shortato nelle fasi estive e quindi il superamento appunto del 20.650-20.660 sta mettendo a dura prova questi venditori che secondo me nel momento in cui verrà superata andiamo ad attaccare il massimo storico. Mentre invece per quanto riguarda il supporto, 20.300 è diciamo l'ultimo baluardo difensivo prima di una caduta e poi c'è il famoso 20.150 sotto il quale effettivamente potrebbero gli istituzionali prendere parte di questo trend e profitto di questo trend. Concludo con un DAX che vede proprio protagonista questa mattina il rialzo. Un rialzo tra l'altro che se andiamo a guardarlo è stato un rialzo velocissimo, i venditori si sono fatti vedere subito su queste strutture, siamo in una tendenza corta, in una tendenza short in questo momento però segnaliamo quelli che sono i supporti veri del DAX che sono posti a 19.400 e 19.350 sotto il quale ci sarà ancora struttura rialzista in quanto proprio qui all'interno di una struttura come questa di tre settimane fa, quindi di un mese fa, abbiamo circa due supporti, il primo è posto a 390 e il successivo a 220. Con questo io ho concluso. Perfetto, io ti ringrazio per la panoramica e con te rimando l'appuntamento alla prossima volta. Con questa nota terminiamo l'appuntamento di oggi, grazie per averci seguito, arrivederci a domani.